we are the net presenta i consigli dell'osteopata a cura di diego merlo ciao a tutti sono diego merlo e sono un osteopata ma sapete voi cosa fa un osteopata immaginate che io sia un investigatore che cerca il colpevole del vostro problema fisico ebbene sì dovete infatti sapere che dove c'è dolore non c'è la causa del problema a meno che non sia stato un trauma diretto provocarlo la zona colpita è solo la vittima il nostro corpo è dotato di capacità di autoregolazione e di autoguarigione e il mio compito è quello di aiutarlo ad iniziare e a velocizzare questi processi vi chiederete per chi è adatta all'osteopatia bene state tranquilli l'osteopatia è adatta per tutti coloro che hanno disturbi fisici quali problemi muscolari o problemi articolari e che vogliono recuperare la loro salute in fretta e con poche sedute immaginate di poter ritrovare l'elasticità dei vostri tessuti che sono ormai bistrattati da lunghe giornate al pc o in cantiere o in mezzo agli altri quando lo stress la fa ormai da padrone e porta a degli accorciamenti a livello muscolare a delle alterazioni della postura e quindi ad una varietà innumerevole di problematiche a livello muscolare e articolare la buona notizia è che l'osteopatia aiuta il corpo a rigenerarsi e a ritrovare il proprio equilibrio e ricordate che il corpo è il luogo in cui viviamo e dobbiamo far sì che sia il luogo migliore del mondo nelle prossime settimane vi parlerò della postura vi darò alcune informazioni consigli utili e pratici per come gestire meglio la vostra attività lavorativa e la vostra quotidianità sempre nel rispetto dell'equilibrio del nostro corpo un saluto a tutti vi lascio i miei contatti diego merlo 344 27 37 016 se volete scrivermi un'email di merlo 74 chioccia la gmail.com mi trovate ad alba in via pertinace 22 mi trovate a canale presso il centro medico san giovanni e mi troverete da settembre all'imperia a presto puoi seguire il podcast dal sito we are the net punto it oppure sulle piattaforme spreaker spotify itunes youtube tune in altrimenti cercaci su telegram facebook o instagram ciao ciao Grazie a tutti.